. Uomini e donne, un grande ritorno sul trono, ecco di chi si tratta. Proposta irrinunciabile. Un grande ritorno ad uomini e donne, si tratta della bella torinese Giulia Cavaglia. Durante la registrazione del programma, infatti, cè stato un faccia a faccia tra lei e la neocopia formata proprio da Lorenzo e da Claudia. A tal proposito, è stato chiesto a Giulia se volesse sedere sullambita poltrona rossa e lei ha accettato di buon grado. . La Cavaglia andrà ad affiancare i colleghi Andrea Zeletta e Angela Nasti, sorella della modella Chiara, ultimamente subissata dalla critiche sui social per via del suo comportamento in trasmissione. . Una rivincita per Giulia che proprio qualche giorno fa era stata rifiutata da Lorenzo che ha scelto invece Claudia Dionigi. Con Giulia sul trono ne vedremo delle belle. . Scelta di cuore?. Ad uomini e donne, ci sarà un grande ritorno, si tratta della corteggiatrice turinese Giulia Cavaglia che, dopo il no, è pronta per questa nuova esperienza. . Riccardo ha rifiutato Giulia di fronte ad amici e parenti, che sono accorsi alla villa proprio per sostenere la ragazza in un momento importante come quello della scelta. . Ho vissuto dei bellissimi momenti con te, che non dimenticherò mai e le ha detto Lorenzo non è facile per me, perché sai quanto io tenevo a te. . Purtroppo il mio cuore non urla è il tuo nome. Non smetterà mai di ringraziarti per quel video che hai fatto con mio padre. . Secca la replica di Giulia. Io penso tante belle cose di te, tranne una cosa. Tu credi di avere molto coraggio, io penso che tu non ne abbia così tanto. . Io penso che a uomini semplici, scelte semplici. . Per odiarti, dovrei amarti. . Poi, una volta allontanatasi dal ragazzo, ha raggiunto la telecamera ed ha esclamato, Lorenzo è stato incoerente come sempre, ma ormai abbiamo imparato a conoscerlo. . Il suo nome non urla Claudia, urla business. . Avremo modo di vedere Giulia sul trono dalla prossima settimana. . . La collega Nasti. Un grande ritorno quello preannunciato sui social network dai fan del dating show, Giulia Cavaglia sul trono. . Tra i colleghi di trono troverà Andrea Zelletta e la napoletana Angela Nasti, sorella della più famosa Chiara. . 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